Sto meglio, dopo il caffè sto meglio, pausa caffè, cosa troveremo sotto l'albero di Natale del calcio mercato? Nel primo video ho raccontato che cosa vuol dire andare allo sconto per un euro, ho raccontato che l'addio di Onana era scontato e ho raccontato un po' l'ingresso degli arabi che sembrava per qualche sprovveduto un fuoco di paglia, invece è appena iniziato. Cioè io adesso, a 40 giorni dalla fine del mercato, non so veramente che cosa dire e che cosa pensare che accadrà da qui a fine mercato, non solo all'Inter ma al calcio europeo, poi come dice il Menghi, gli arabi, vabbè, riguardate il video del Menghi che è spettacolare contro il calcio moderno. Qual è la situazione dell'Inter? Andiamo al sodo, 29 giorni a Inter Monza, in porta per adesso Radu Stankovic di Gennaro e, ok, sono uscite delle indiscrizioni. La prima, un pochino si era saputa, era l'interessamento per De Gea, come si pronuncia, dell'Inter. Sembra che l'Inter avesse offerto insomma uno stipendio abbastanza buono al portiere che però vorrebbe fare i torni in Spagna. E si è parlato spesso di, spesso no, ma si è parlato di un'opzione incredibile Donnarumma, si è parlato di Navas, si è soprattutto parlato di Sommer dove, anche lì, clausola, non clausola, clausola è scaduta, non si capisce se l'Inter l'abbia fatto apposta, si sapeva, comunque siamo arrivati a un'offerta a 4 milioni, ma poi il tempo passa, non solo il tuo allenatore non può costruire, ragazzi, oggi si parte da dietro, si costruisce l'azione, il portiere deve essere coinvolto, arriva nuovo all'Inter, il portiere non è un calciatore che arriva e poi c'è quello che gli spiega, no, vabbè, tu sei, arriva a Cervi, c'è De Vrij, però arriva a quello che è, arriva, non lo so, anche quel cornuto di Quadrado, però davanti c'è uno che gli dice che fa, poi Quadrado arriva come calciatore e nasce imparato, no, non è Ciala che cambia, no, qui si tratta di inserire un portiere e su Sommer cominciano a esserci dei problemi, perché Neuer non si capisce se si riprenderà come il Bayern vorrebbe e allora magari ce lo teniamo e allora il Bayern ha ciccato l'acquisto del Georgiano, del Valencia, allora tutta una serie di domino sul mercato e l'Inter ha delle alternative, sì, sì, però lo spettro di Audero, che è un portiere che va benissimo, ma non è da Inter, così come eravamo gasati, io su Onana, quando leggevo delle robe sui giornali, io le, ma ragazzi, le ha postate Cavasini che è seduto l'altro giorno, ragazzi, ma c'erano dei titoli veramente che, guardate il calcio, ma Onana, era, non era da mettere, era indiscutibilmente forte, era uno da non mettere in discussione, tanto che la campagna è stata, Simone, mettilo, perché non puoi partire con la frase Andanovic si è guadagnato la titolarità, lui è il mio portiere, perché è una cagata, però anche la stampa ha giocato e lui quindi, invece, errore, uno degli errori più grandi, più macroscopici dell'anata scorsa, ok? Tutti sbagliano al primo anno e al secondo anno, eh? Con un portiere così. Fatto sta che questo portiere che non giocava fino a novembre è andato a giocare, sto fomentando, è andato a giocare allo United con il suo vecchio natore che ha chiesto che fossero tirati fuori i 55 milioni. Onana, l'unico calciatore che va via dall'Inter senza essere insultato, un po' paraculo sì, un po' sincero molto, veramente sincero. Resta il fatto che sul portiere siamo indietro, non puoi alla fine presentarti con Audero, sicuramente l'Inter non è così sproveduta, ma al momento ha ciccato qualcosa sul portiere. Ufficiale, perché al 21 di luglio Inzaghi probabilmente non riuscirà a portare nessuno, neanche in tournée, per fare delle partite e questo è molto grave. È grave per l'Inter. È grave per l'Inter perché davanti a Zhang, davanti ai dirigenti, davanti a tutto ci sono i tifosi e c'è la squadra con questa meravigliosa maglia. Non esiste che un ruolo così importante come il portiere oggi sia scoperto. Quindi si fanno i complimenti per Frattesi, per Turam, per Bissec, per certe operazioni che sono piaciute, si contestano quelle che sono inspiegabili come Quadrado, al di là del calciatore che qua lo sapete, in tempi non sospetti quando ancora Mancini, cioè io iniziavo a fare i video, ho parlato di Quadrado, dicevo cazzo il Mancini voleva Ture, voleva Salà, voleva Quadrado, voleva Immobile, voleva Gieco. Calciatori che nessuno voleva. Come Conte voleva Kanté, Lukaku che nessuno voleva più in quel calcio lì. Quindi calciatori voluti da allenatori con visioni. Qui, Frankie, calma, che già sono nervoso io. Comunque, dicevo, importantissimo il ruolo del portiere. Vediamo se l'Inter è preparata, però insomma stanno mettendo di nuovo, stanno facendo di nuovo come l'anno scorso un pezzo di mercato e l'altro è completamente al buio e denso e ricco di punti di domanda che l'Inter non merita, se è vero, che punti allo scudetto. E qui devo difendere l'anato ora, che però potrebbe anche difendersi da solo al terzo anno. Al terzo anno potrebbe dire, lo so che abbiamo le pezze al culo, lo so che vendevate questo, lo so che mi darete una squadra forte, lo so che l'operazione Turano, però ragazzi, sul portiere sapevamo tutti Andanovic e Dionana da tempo. E quindi è inspiegabile questo stop sul discorso portiere. Poi, l'ha detto Inzaghi in conferenza, ha fatto bene, manca ancora un difensore. Eh, va bene, può essere integrato dopo, però il braccetto che sostituisce è Skriniar. Non è Bissek, non è Darmian, che fa comunque da sempre un altro ruolo, anche se si è adattato e ha fatto benissimo. Manca, però lì dici, vabbè, c'è Darmian. Poi non c'è Darmian, non c'è più D'Ambrosio. Chi cazzo gioca lì? Devi spostare Bissek al primo anno, fai arretrare Duflis nel terzetto dietro. Perché manca? Manca il braccetto? Perché manca un difensore? La questione Skriniar la sai da una vita. Allora, si fanno i complimenti all'Inter e io li ho fatti. Si fanno le critiche per l'acquisto di Quadrado. Si fanno delle domande sul discorso Lukaku perché non si è capito poi la verità. Poi è uscita, ma secondo me ne manca un pezzo. Dato per assodato che Lukaku è un cialtrone bugiardo e anche un po' cornutazzo infamore e che si circonda di altrettanti cornutazzi è anche vero che a un certo punto questa presa di posizione dell'Inter durissima ha portato alla non conclusione poi di un colpo in attacco perché stiamo trattando Morata, ok? Poi arrivo l'attacco, faccio un'anticipazione, Morata che il signor Luiz Enrique, Gigi Enrico che io stimo tantissimo, quando la Spagna, ma vi ricordate le fasi di Gigi Enrico? Chi è che gioca? Gioca Alvaro più 10. Allegri che non è una cima ma qualcosa ha fatto, poi è caduto, non lo so, vedremo quest'anno ma è caduto veramente nel barato. Ha sempre parlato di Morata benissimo. Io su questo canale, visto che Morata non lo considero assolutamente un super gobbo, c'è uno che ha giocato Chelsea, Atletico, Real due volte. Se c'è un giramondo è lui, poi con la moglie veneta, mi pare veneziana. Comunque, mi sembra uno che ha fatto insomma tanto all'estero, non solo la Juve. Comunque, ne parlano tutti bene e i numeri sono della sua parte. Questo è il quinto canoniere della storia della Spagna. Il canoniere più importante in attività, quello con più gol, ed è uno che ha fatto in nazionale due partite e fa un gol. Due partite e fa un gol. Forse anche di più, ha una media altissima. Però, per prendere Morata, che è ovvio che sia in decadenza, anche se è ancora un calciatore molto alla GECO, stiamo penando. Ma torno indietro. Quindi, portiere, problema. Difensore, problema. Due robe che sapevi da mesi. È quello che fa incazzare. Dopodiché, centrocampo, c'è la questione Sensi. Stefano Sensi, ok? Chi è il sesto? Il sesto è Sensi. Il sesto Sensi. Mi sembra che i cuori nei razzurri di Sensi sui vari social si siano sprecando. Quella punizione che toglie le mosche e il ragno all'incrocio la può fare solo lui. Probabilmente in Serie A, oggi, solo lui può calciare punizioni così. Perché è migliorato. Perché il piede di Sensi in Serie A mi spiace. Non vorrei scomodare quelli che vanno pazzi. Reinders. È arrivato Reinders. Ma lo stesso Frattesi, che è un giocatore diverso. Ma lo stesso Chala, che io amo, che ho preso la maglia. Ma il piede di Sensi ti serve. L'intelligenza di Sensi ti serve. Ricordo che Sensi è l'unico che può fare in corsa qualcosa alla Foden. Se sta bene, gli unici dribbli in Italia, cioè in Italia all'Inter, li abbiamo visti fare da Sensi. Solo Sensi ha danzato sul pallone a Cagliari e si è fatto atterrare in area. Solo Sensi dribbla a no camp. Tutta la difesa del Barcellone viene stesa in un rigore clavoroso. Non dato, perché quel girone era passato. Quel girone con un arbitraggio normale. Il girone lo passa, Conte. Quindi non rompete i coglioni. Quel girone era nostro. Furti arbitrali in Ucraina e in Spagna. Rapine a mano armata. Ma Sensi che danza sul pallone all'Inter serve. E io spero che quella casella vengerà riempita dal nostro calciatore. Dal calcio, come diceva Andanovic. Come ho detto prima io, poi Andanovic mi ha copiato. A centrocampo, oltre a Sensi, si riparla di un Inter che è su vari fronti e per calciatori che mi piacciono come Samarvic. Perché Samarvic è 10 renders. No, parlo di renders perché quando le cose sono ufficiali poi mi vado a vedere tutto e studiavo. Stanotte studiavo renders. Se devo dire che ha una bella germinella, ha un calcio da fermo, è molto buono. Mi sembrava un kinderino per alcune movenze. È chiaro che i tempi del calcio olandese qua non ci sono. Però è anche vero che è uno che lotta, a differenza di kinderino. È uno che tira e ha una bella sassata nel piede. Però Samarvic è altro. Samarvic è classe. E sembra che l'Inter anche qua sia un po' più avanti. Quindi attenzione perché mentre vi racconto questo ci sono squadre come il Napoli che hanno cambiato pochissimo a parte Kim e l'allenatore, ma non è arrivato uno sproveduto perché Garcia con il suo violino è tutt'altro che uno sproveduto, sono come impianto di gioco messe benino. Anche l'Inter aveva un impianto di gioco, ma ce l'ha praticamente, anche se ha cambiato schema comunque da Spalletti a Conte, l'Inter aveva un impianto di gioco e un'ossatura anche con Inzaghi. Quest'anno l'hai cambiato un po', devi anche assestarti e non avendo più Lukaku e Onana e Brozzo, è chiaro che sai, poi mi preoccupa meno il ruolo di Brozzo perché Ciala lo ha fatto una vita con Inzaghi. Mi preoccupa tanto invece non sapere che portiere avremo, come sarà con i piedi e quindi come sarà modificato anche il gioco. Non è Onana che dribbla Alan in finale e non è neanche Andanovic che a parte qualche, forse un'occasione, non era poi così male nel far partire l'azione per avere la sua età, per essere un portiere in decadenza. E poi il discorso dell'attacco che ora racconterò. Comunque dicevo, per fare veloce, centrocampo, l'Inter sembra avanti su alcune cose, vedremo, se si l'abbiamo detto, sulle fasce c'è il discorso sempre di Gosens che ha fatto 200 interviste, ma tanto sappiamo che se ne andrà. Se non va, a me va bene, perché oggi tra Carlos Augusto, che ha il suo sostituto designato, e Gosens, al di là di tutto, sapendo che Gosens ha superato certi problemi, anche se rimanesse Gosens, io sarei strafelice. O Gosens, mica è l'ultimo Pirlo, rimane Gosens, sono contento. Adivar Carlos Augusto, un po' diverso, molta classe, sono contento, è più brasiliano all'Inter. Dall'altra parte, appunto, Quadrado dovrà essere un grandissimo professionista e dare l'anima, e vediamo un po'. Se gioca come sa, come sapeva, o come poteva, perché oggi non so quanto potrebbe rendere, potremmo vederlo titolare parecchie volte. Attacco, attacco, attacco all'attacco, perché questa roba di Lautaro che mi avete scritto, io non ne sono a conoscenza. Già sono arrabbiato per vari fronti, perché si fanno i complimenti e ci si arrabbia. L'importante è voler bene alla maglia e fa anche un po' rima. Resta il fatto che si sono esplose le offerte, si parla appunto di Barella, ma soprattutto è arrivata una roba che se fosse vera, se fosse vero che sul tavolo dell'Inter hanno detto Ci dai Lautaro? Noi a lui daremmo 60, faglielo sapere. Poi per il cartellino, ecco, per il cartellino prendo, pronto? 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 Sì? Sì, ok, Lautaro per il cartellino sono 350 milioni. Grazie, fammi sapere, sì, ciao, ciao, sì, ciao, 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 ciao. Ok? È così. Ragazzi, se hai dato certi bonus alla firma, con tutto rispetto per Benzema, Ah, questo c'è 10 anni in meno, 11 anni in meno. Vuoi Lautaro? Mi dai, non lo so, mi dai i soldi per comprare tutto il fronte offensivo nuovo, ok? Ma anche lì, sono sicuro che se l'Inter vedesse Lautaro a 250 milioni o a 350 milioni, gli arabi dicono sì, non c'è problema, non c'è problema. Io sono sicuro che il giorno dopo noi staremmo lì a litigare per prendere, magari, Guaio Balogun col milione in più o in meno. Non va bene, non va bene. Adesso vedremo più tardi, magari facciamo un bel video anche su cosa dicono i giornali. Non va bene. Questa è un po' la disamina che ho fatto nel primo video sulla situazione, arabi, zang, il fatto di danneggiare la squadra se fai trattative lunghe, il fatto che abbiamo fatto i complimenti all'Inter per la partenza, come già è successo per alcuni acquisti, e poi invece poi super super rallentata adesso con delle situazioni, ripeto, che sono inspiegabili, perché Onana sapevi che andava via e quando poi comunque l'hai venduto e Lukaku è successo quello, è vero che non avevi un piano B perché con Lukaku si stava chiudendo, ma è anche vero che si è in Morata. Vabbè, comunque l'offerta di Morata, Morata se vuole l'Inter lo prende domani, però sta aspettando, sta aspettando, su Morata ci sono altri concorrenti. Occhio a Mourinho, io scherzando insomma ho detto ragazzi, anzi scherzando non troppo, perché devo dire scherzando, non è vero, da quello che so io Morata se vuole, anzi ho messaggini in cui mi dicono guardate che Morata veramente ha un passo, il problema è che l'Inter sta ancora, cerca ancora uno sconto, vabbè comunque si sa già appunto quanto l'Inter ha offerto di ingaggio, il contratto, vabbè, poi ci sarebbero un sacco di altre notizie, ma magari facciamo il famoso video a parte, più tardi vado a fare un appuntamento di lavoro, mi sono svegliato nel cuore della notte, ci risentiamo più tardi perché poi andremo a parlare nel particolare anche delle altre squadre, andremo a parlare di calcio arabo che si arricchisce, di nuovi talenti e andremo a parlare anche di tanti calciatori dell'Inter fortissimi, come un certo Oristanio, come lo stesso Mulattiere nell'operazione, vabbè, di Frattesi, ma come Oristanio ed altri che da un lato vanno a fare esperienza come a Caglia, Oristanio è fortissimo e andremo a... Sì, volevo leggere delle cose, ma vediamo un pochino, mi sa che è stato un temporale, no, nessuna connessione, ok, saltato internet, adesso vado a riaccendere il modem, che qua ha temporaleggiato, ha un po' rinfrescato, ecco qua, è tornato adesso, benissimo, allora, notte di terrore a Parigi per Donnarumma e la compagna, legati e rapinati in casa, wow, 31 minuti fa, volevo parlarvi di calcio, invece, 31 minuti fa, il portiere del PSG sarebbe stato anche spogliato dai rapinatori, ma è riuscito a fuggire, ora è in ospedale per controllo, notte di paura, il portiere è stato rapinato nell'ottavo a Rondismont di Parigi nella notte, tra giovedì e venerdì, c'è stanotte, in casa c'era anche la compagna Alessia Elefante, ma pensa te, avevo la battuta simpatica, ma non mi sembra il caso, quella che uno apre il frigo, no, e dice, ma come mai c'è un elefante nel frigo, uno dice, mi dice sempre, ogni festa che facevo c'era solo il Coca-Cola, e tutti mi dicevano, elefante, 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 dopo questa freddura, vabbè, qui comunque Gianluca è stato legato allo spogliato, alle 3.20 del martino, il personale dell'hotel ha quindi alertato la polizia, ma non ho capito, ma in che senso? Sono riusciti a rifugiarsi in un hotel di lusso, sono stati portati in ospedale, vabbè, robe da pazzi, robe da pazzi, la Juve su che sì e per che sì darebbe via Financo, Zaccaria e McKennie, ma va Agnelli sempre, tra virgolette, nella bufera, UEA con il papà che ha giocato nel Mino tutta la vita e ha detto che tifava la Juve, saranno contenti i milanisti, Turama, la Lukaku, è sbocciata la Tula, mi spiace, questa è una mia, la Tula è mia, la Tula è mia, perché per voi Turama faceva la riserva, la Tula è mia. Ok, io quando l'Inter ha preso Turama ho detto se Lukaku fa mezzo passo falso è fuori, ecco lui ha fatto, non mezzo passo falso, ha fatto una maratona fuori e quindi si è cercato il suo male, però io ero sicuro che Marcus avrebbe fatto il titolare, infatti la Tula l'ho inventata io, l'ho inventata, l'Inter-Sommer si blocca tutto come ne raccontavo, l'Inter farà un test con la pergolettese famosa per la tripletta di Kinderino CDK, Lukaku, non lo commento neanche, che ha provato a ripronto, all'Inter gli hanno messo giù l'Ill, il Milan, dove poi racconterò di Reinders e degli altri, il Genoa che ha preso Retegui, alla fine Retegui, 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 il livello è, con tutto rispetto per Genova e per la Samp, per le squadre di Genova che amo, va a giocare comunque al Genoa, auguro comunque buona fortuna a Retegui. Bene, bene, le prime uscite di Napoli e Lazio, occhio perché Napoli comunque è la squadra che ha cambiato meno, per il resto, niente, di Gosen abbiamo già parlato, Aslan ne ha fatto un'intervista, e su tutto il resto ci risentiamo nel pome, questa è la situazione, ok? Poi oggi comunque faccio scattare le fonti le fonti, perché è il mio piede delle palle, però ripeto, Carlos Augusto, Morata, e queste sono un pochino le indicazioni che ho dato qui e su Twitter, che deve fallire e sta per fallire. Una bella notizia che abbiamo. Buona giornata intervisti.